Hey Kooj, ben ritrovati da vostro Andralink91 e questo è un nuovo episodio per WarioWare Gold Dunque ci siamo lasciati con una bella sorpresa Dopo le leghe normali ci sono anche le leghe ultra O meglio, queste leghe che comunque si hanno tutti i tipi di minigiochi mixati insieme Quindi che possono essere soffio, tocco, premio pulsanti, shaker a console, quanto ti pare E al loro interno ci sono giochi di sport e quotidianità E abbiamo un po' di personaggi, quindi tutti quanti i minigiochi mixati Ok, io direi che possiamo anche cominciare, allora devo essere sempre pronto a tutto Quindi mano al pennino Prepariamoci la becca a soffiare Eccolo, vedi, arriva Non te l'aspettavi eh Joe E quanti? Beh Pur di fare qualche soldino extra Siamo un sciocco di roba da mangiare Senti che odorino? La gente non riuscirà a resistere Io sfoggerò le mie mosse migliori Però quello non è la squadra del dragone Appena mi sentiranno cantare Faranno la coda per entrare Fare Ok, ritiro quello che ho detto Ok, ritiro quello che ho detto Prima però vi voglio presentare i giochi che ho programmato io E ci sono anche i miei Che bello Si chiamano giochi Soffia soffia Per vincere bisogna soffiare nel microfono Quindi praticamente sono una nuova Tipo una nuova entry Qui I miei invece sono a sorpresa Spuntano a caso e finiscono subito Quindi tieni gli occhi aperti E tieni i nervi ben saldi Ora ho paura però Inizio la festa Bene, allora cominciamo subito Il problema è che essendo random non so come cosa fare Ah, te lo dico, no? Beh, se te lo dicono è facile Yeah, yeah, yeah Guarda come si muove Ah, bello l'albero ora, eh Questo era un albero di cachi Ah, gira tutto, gira tutto Già taglia Ah, gira tutto Mer, mer, mer Mer, mer Ah, era un albero di cachiare poco Hai vinto Grazie, ho vinto sì Tocca tutto Ok, passa Vai, gol E si gol Canestro, che gol Eh vabbè, forse di giocare in Azul 11 Yeah Eh vabbè, che gambe Sto pure, eh, quant'è? Poco fa Che episodio era? Forse il terzo? No, primo, primo, pigiato tutto è primo Oh Perfetto, ragazzi Stiamo andando bene Stiamo andando, eh E vai Preso Questo non lo prendo mai Ma Come? Eh dai Stavo a premere Non lo prendeva L'ho toccato Guarda Ah Vabbè però Vuoi pure se sei bastardi, eh Ti rifanno a trabocchetto La notte è giovane Eh, io continuo, ragazzi Ti fanno a trabocchetto Dai Oh no Ma proprio al pelo deve essere proprio preciso Ah Fantastico Gira tutto Yeah Fabuloso Grazie Che veloce Senti che progressione Posso anche usare il dito, no? Buon lavoro Sarà facile Questo Cioè io ho girato Ma sarà fermato Quindi non è che posso fare miracoli, eh Fatto Vado col dito Perché sennò Eh, versa tutto Ho fatto Ma perché? Non mi riprende Eh, non mi riprende Non lo so, eh La notte è giovane Eh Gira tutto Vedi? Prima qua l'ho fatto Niente Mi prende in giro Mi prende in giro Pumarola 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 Ehi Sei veloce? Ah Ehi Bemme te Ehi Ah 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 Fregato Pumarola Alla grande Pumarola Angoff Yeah E così che si fa Se c'è così a Napoli Pumarola Angoff Sì Non è che faccio una gaff No ma Alcuno è tra bocchetto Erno A parte che io sono negato Eh Però alcuno è tra bocchetto Che bello Vedere tutti che si divertono Ottimo Il locale è pieno Bene allora Ma Quella è innamorata di Wario Mono Allora scateniamoci Beh andata bene però dai Grande Ce l'hai fatta Certo che sei proprio in gamba con i videogiochi No Mi raccomando ora devi mettercela tutta E sono pessimo i videogiochi Mi chiedo cosa succede se arrivo a 10.000 Posso ricomprarmi qualcos'altro Non lo so Lega Ultra, Nintendo e Fantasia Perfetto vediamo questo allora Tutti quanti ora li faccio Campeggio o Peridoto Peridoto Non so Dovrebbe essere una specie di gem Peridoto comunque si Beh ci manca pure Bravo Marshmallow Le toffolette Cos'era Mandra Quello stavo per dirlo Ok Il cibo ce l'abbiamo Ma poi come facciamo dopo Io ho un'idea Ci sono tanti modi per stare insieme e divertirsi Giocare videogame Io sono a sociale quindi gioco da solo Cioè bastava suonare la trombetta per fare innamorata la ragazza E quando me lo dite Non è il mio Zelda preferito ma è bello Ottimo Mario Grande Cento Non ci arriva cento Se arriva cento prendeva una vita Ok Abbina Yeah Guarda quello con gli occhiali Spavallo Guardi E la luna se la ride Sotto i baffi ma se la ride Evapora lo yokai Si yokai significa spettro quindi va bene uguale Non è che lo yokai è per forza quello del videogioco yokai E' bello perchè non è che l'intruso è il lupo E' la pecora Che cosa ho fatto? Questo lo sapevo che devo aspettare C'era tutto What? Ma questa spada è E' in gomma piuma Ah Ottimo Grande Quanto vorrei avere McTishine io Ah qui posso anche muoverlo Oh diverso da quello per Gamecube allora Ma Ah ma Pikmin Ah 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 Non ho capito quello di galleggiare Ok scusa ho sbagliato Ok meno male Al pelo Nooo Ma perchè me ne accorgo dopo? C'è di peggio C'è di peggio? Ma è il boss per esempio Colpisce? Oddio questo va bene va bene Ah ma la mamma con la padella? Eh si volevi eh Più tenevi che non ce la facessi E invece Ah ah Sessantadue metri Perfetto Che bello Qua ne ho sbagliato Tre ne ho sbagliati Cavolo Sono proprio davvero pessimo a WarioWare Ma quanto mi piace giocare Ma questo figlio è uno sposto? Giocare con gli amici all'aria aperta è troppo bello Dobbiamo farlo di nuovo E la prossima volta invitiamo anche Wario Ma Wario vi ha sfruttato Forse loro sono abituati quindi Oh ragazzi invitiamo Oramai sappiamo com'è Quanti altri amici Si Si Quanta è felice Ceci Si Ma quei due big voce Lì Complimenti Bene Che vittoria Ora ti tocca la battaglia finale Contro Wario Fai vedere al mondo Cosa sei capace di fare Va bene Facciamola subito allora Così in teoria Finiamo WarioWare La storia principale Credo che ora sia finita Proprio del tutto La storia principale Minigame Ulteriori E' bello Wario Deluxe Perché Deluxe però? Deluxe è più bello Oh siamo allo stadio Diamante E' proprio l'atto finale Ok Palma Fino La mia prossima mossa ti lascerà di stucco Ammira la grandezza del mio potere Ok Wario se lo dici tu Inizia a fartela sotto Ma quel vaso ti ha stregato Tipo eh Però col nuovo cappello potrebbe essere un'idea Vabbè però Eh Una volta che ci prendi la mano No pugno pugno Chiuri tutto Chiuri Chiuri Ah dovevo toccarlo Non striciarlo Eh che cavolo Ma perché sono negato io per queste cose? Io i due giochi sono negato Eppure Non mi arrendo Continuerò a giocarci Finché non vinco Non vinco Cos'è mal di pancia? Ah meno male Pensavo di averlo perdito Ormai Cavi rossi Eccolo Ok Vai Come mi piace a me Più veloce Non male Non male Eh Meno male Oddio Questo è vecchio pure Ok Fatto Ti sta impegnando Eh Abbastanza Ok Boss Cosa Che devo fa L'ho fatto Ma dai Che par Eh vabbè Game over Ma Voi pensate Io faccio apposta Ma io davvero Mi sto impegnando Davvero io Mi impegno davvero Ma non ci riesco Proprio Sono negato Per WarioWare Non proprio È arrivata Finalmente La piccoletta Cos'è? Ok Ok Vabbè Cos'è ora Torni a dirmi Quello che c'è da fare Sì Dovevo riprenderla Dai Dai ce la facciamo Dai quest'altro ce la facciamo Niente più errori Più veloce Guario alto Ma l'avevo fermato Ma dai Meno male Ah Si poteva roppe È giusto Quanto ci ho penato Per questo Questo era A livello intero Boss Quanto ci ho penato Per farlo Certe volte Sul Gamecube Mamma mia Che seccatura che era Come alza il volume Ok Su Giù Su Giù Giù Digi Chi Chi An Ottimo Dai che ce la facciamo più veloce Ce la mi sono arreso No Siamo pronti Poi combinerà tutto quanti insieme Soffia, canta, adesso Ecco toccamo va Eh, finito Grande, visto tutto quanto Ho fatto fare, lo sapevo io Va bene, ce l'ho fatta Ho perso tutte quante le volte Almeno una volta su tutte quante le leghe Però abbiamo finito WarioWare Penso di aver finito, eh Eh, questo Cioè tu non mi hai scritto sopra? Ah ok, non si ricorda nulla ovviamente Nooo Questo vaso è un vasino Lo avevo appena lavato E messo ad asciugare E poi tu lo hai rubato E allora prenditelo Andate e fatela tutta Ah, è finito Oh, 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 oh Eh Ora devi pagarci per il nostro lavoro Caro il mio Wario Uuuu Paga Vogliamo quello che ci spetta Dai Lo sapete com'è fatto Wario, no? E voi l'avete accettato Ehi, cos'è? La squadra dello star Ma cos'è? Mi stringe il sedere? Oh, che bello Quelli sono i soldi del torneo Ma io mi aspettavo di più Oh no Il resto lo avrà già speso di sicuro Per organizzare il torneo Ehi, come i soldi zuccone? Ehi, calmati fratello Esatto, ti daremo la tua parte Ma certo si divide in parti uguali Oh, no, no, no Non ce ne parla proprio Ehi, mi ascoltate I soldi sono tutti miei Sono tutti miei Niente da fare Wario è sempre lo stesso Eh, vabbè Oh E quindi finisce ora Chissà se ci sarà altro da fare dopo Questa specie di scena finale È completato il gioco Bravo Anderlink Grazie Faccio un po' schifo Però l'ho completato Gente, sono tornata E ho riportato il nostro vasino Oh, ciao, Lulu Hai visto il nostro nuovissimo vasino? È l'ultimo modello Ti sciacqua pure? Eccolo Il washlet Ti piacerà? Non vedo l'ora Eh, ci credo Ok, ecco da parte Sono diecimila monete Grazie mille Vabbè, giriamo pure questa Intermezzi Intermezzi di Lulu E finale Epilogo Ok, come tutto la categoria firmati Ebbè, grazie La modalità sfida? Ad ogni modo I premi Penso che Ormai ce l'ho tutti Ah, con le monete Ok, slottiamo anche qui Bear, dettagli la vostra Anderlinck 91 Su Yo-Kai Watch Puni Puni Dai, su Wario di segno Amiibo Prossimo Giocondo Componente misterioso Jimmy Doppiaggio Componente misterioso 5 Ultrascope Oh, l'ultrascope Componente misterioso E doppiaggio Lulu 2 Love Tester E facciamo ancora un'altra Dai Ah, quindi anche se giro così Me lo dà Ah, forte Danny Zucca matta Sveglia di Dr. Craigor Memory Match Componente misterioso 10 Ah, mi dà anche i minigiochi Tomorrow Hill Sveglia di Jimmy Mona Ashley Red Doppiaggio Forte Sveglia di Penny No, non ho più cose per sfruttare Quindi E come sempre Vi ringrazio per aver seguito anche questo video Non so se ne farò altri di WarioWare Perché comunque sia Io una volta che tendo a completare un gioco Poi gli extra Se non sono tanto importanti A parte Pokémon Yo-Kai Watch Nizze Meleven Insomma Tendo a giocarli per conto mio WarioWare Gold È giusto una serie che volevo portare Questi 5-6 episodi Quello che è Su Su YouTube Sul mio canale YouTube Tanto per spassarcelo un po' Per farvi vedere Quanto io sia pessimo Ai videogiochi Quindi Kugio Per questo video è tutto Vi ricordo in descrizione Il link per Twitter E Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi a noi Ci vediamo come sempre domani Con un nuovo video Bye bye Ciao 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 Grazie a tutti.